buonasera ragazzi bentornati opinioni pericolose buonasera questa sera siamo per adesso solo tre ma perché adesso stiamo raccattando gli altri piano piano nei meandri dell'internet perché l'internet come sapete è un posto in cui si può perdere che col motore di ricerca puoi arrivare anche laddove non volevi come diceva il buon elio tipo google a tutti tipo google no perché c'è molta gente google non lo sa usare google è un sistema motore di ricerca dove uno scrive le cose ti trova le cose bellissimo no perché fidati ogni tanto devi ogni tanto va rispiegato cos'è google fidati allora questa sera saremo io stiamo qua giovanni il buon gianni è ritornato e attenzione perché questa sera ritorna mauro non c'è invece marco cioni questa sera ma ma come potete leggere credo dal titolo della live vediamo sì sì ci sarà un super ospite con noi a brevissimo cioè mark de hammer che io sono sicuro che tantissimi di voi già conoscono e poi ci faremo dire da lui nel dettaglio chi è cosa fa così ci facciamo due chiacchiere con lui o mentre aspettiamo mauro giovanni tu butta sì io telegram intanto sì se dice qualcosa intanto c'è scusa c'è bosch che ha donato dopo ha donato ha donato un euro e 42 dice ciao ragazzi stasera voglio fare il bastardo e anticipare a macca banane siate croccanti quindi adesso c'è una faida capito è quindi attenzione a macca banane perché sei stato quasi spodestato una volta non basta perché credo che a macca banane doni due euro tutte le volte da sempre ecco mauro ecco mauro mentre fai entrare mauro ora zingarello mauro alla buona ce l'hai fatta mannaggia mannaggia e stavo dicendo questa sera appunto saremo noi quattro con ospite mark de hammer e siamo proprio in opinioni pericolose per chi è la prima volta per chi per il problema se meno per i pericolose allora è sbagliato che è la prima volta che ci seguono opinioni pericolose che cos'è è un contenitore dove parliamo di cinema ma come lo facciamo ogni volta un utente di voi tra gli iscritti al canale twitch oppure un ospite porta un'opinione pericolosa quelle opinioni che tu hai paura di dire anche agli amici perché sai che sono difficili da sostenere cioè tu sei convinto che siano vere hai delle idee che poi poi con le quali puoi giustificare la tua opinione però creano astio ecco noi abbiamo creato apposta questo contenitore affinché se ne possa parlare discutere anche in maniera costruttiva anche a volte prendendosi un po in giro e poi ci sono io giudice supremo che decide se l'opinione pericolosa è vera e quindi poi diventa verità assoluta per tutti oppure se è una cacata e non sta in piedi adriano diare i voti sui amdb scusate cambia tutto volevo subito far star tranquilla la chat perché leggo molti ma marco sta bene ma dove marco ragazzi marco sta benissimo sta solamente da solamente a fa se cazzi su a casa stasera c'è gianni e al posto di marco per altri motivi anche perché nel senso gli ci voleva un giorno per rilassarsi nella sua stanza da solo dato che ultimamente va sempre in giro sempre in giro no ma poi poveraccio che sta sta attraversando questa cosa per la quale non riesce a diventare negativo ma io confido che nel tampone di venerdì col tampone di venerdì potremmo uscirne cioè lui più che altro potrà uscirne proprio preso alla lettera la canzone di giovanotti però invece che io penso positivo è diventato io resto positivo allora intanto scusa adriano sempre a macca banane ha donato due euro e zero tre dice buonasera ragazzuoli stasera mi attendo un gran carico di croccantezza musicale mi raccomando e poi c'è però carbonara verior che dono un euro e 46 dice buonasera ma marco come sta abbiamo appena risposto e troll che dona tre euro dicendo grazie che mi tenete compagnia tutte le sere che sono solo con la vicina di casa maria vai troll salutaci tanto la tua vicina è sempre quella vicina di io vi ricordo che potete sostenere questo nostro progetto su twitch abbonandovi se vi abbonate al primo livello potete ad esempio diventare concorrenti del quasi quiz dove si vincono le nostre magliette esclamativo magliette scoprite quali sono le magliette in chat ovviamente oppure se vi abbonate ad esempio per tre mesi consecutivi sempre al primo livello dal terzo mese potete entrare nel gruppo telegram che è una chat dove scriviamo noi scrivete voi si parla di tante cose si commenta durante la live si parla di cinema di amore della vita si fanno i meme c'è un sacco di roba e e poi prima di far entrare l'ospite di questa sera velocemente già giovanni ti lancio a te la palla del twitch mass che cos'è il twitch ragazzi l'abbiamo già detto diverse volte in tutte le lingue lo ridiciamo stasera segnate sul calendario del telefono sul calendario sopra il frigorifero sul calendario davanti alla porta sul calendario della settimana mestruale della vostra ragazza su tutti i calendari che avete sul vostro calendario mestruale su tutti i calendari che avete a disposizione segnate il 20 dicembre il 20 dicembre c'è il twitch mass vi ricordavate vi ricordate il twitch day quello fatto a luglio perfetto stessa cosa tema natalizio un sacco di ospiti saremo in live dalle dieci e mezza più o meno la mattina fino a mezzanotte inoltrata sarà anche questa una live ovviamente di beneficenza ci saremo noi tutti quanti sanno tutti i nostri format tranne il cane forum perché perdere due ore a vederci un film non ci pare il caso quindi ci sarà opinioni pericolose il quasi quiz la versione la versione bip del quasi quiz ci sarà ovviamente celebrity edition ci sarà ovviamente tre metri sopra twitch ci sarà anche come live hanno fatto poi con tutte le varie cose collaterali noi backstage di matteo video e all'interno tutte cose pazzesche la cosa è importante è che come abbiamo fatto a luglio che abbiamo fatto le donazioni per la croce rossa anche in quella situazione in quell'evento le donazioni saranno per un ente stiamo cercando di capire ancora stiamo cercando di decidere adriano ma anche lì in quel caso quindi lo scopo di tutto quanto cerchiamo comunque di dare un senso più forte a questa giornata che facciamo e io voglio il gruppo si può di gruppo telegram hanno svelato l'arcano per cui marco cioni non c'è quale si vede ragazzi stasera un posto dove rilassarmi non ce la facevo ma comunque gianni lo battere ad occhi si si sono d'accordo sono d'accordo e l'ultima cosa no niente a questo segnale due donazioni due donazioni anzi tre ad underscore b ha detto uno sciottino ogni volta che mauro dice il punto è che donando un euro e ventitra quindi mauro di continuazione così questo stasera consiglio uno sciottino doppio sciottino ogni volta dico effettivamente effettivamente esatto poi c'è l'is che dice regalino in onore dell'estate fancazzista di marca che mi ha fatto ridere meno disadattata del solito al contrario ragazzi un abbraccio ma tu sei un fan no mauro vai di là vai di là vai via vai via fai quello che devi fare e torni intanto marchi è arrivato vai facciamola entrare ciao marco ciao ragazzi come state bene bene finisco di leggere due donazioni mark perdonami e tornare a boia donato due euro e dice buonasera cani mi sa che disdico sky perché ormai guardo solo voi dai e ma noi siamo amici sky siamo molto meno tieniti anche sky e bosca ha detto ragà breve off topic ma l'avete vista queen's gambit su netflix è pazzesca sono ancora in fissa sono tre live nel mio canale che ne parlo e la regina degli scacchi quella che sto dicendo a chiunque di guardarla perché per me è la miglior serie di quest'anno in assoluto marco mark come come ti posso chiamare marco mare come cazzarola volete assolutamente ok francesco ma grazie per avermi invitato un piacere essere qui senti con noi tutte le sere facciamo tutte le volte che c'è un ospite lasciamo che sia l'ospite a presentarsi quindi che fai nella vita chi sei allora sono da dove sei un musicista molto stupido credo che possa essere rassunto tutto così semplicemente sono un genovese che ha un canale su youtube dove parlo in maniera molto stupida e stereotipata della musica di qualsiasi tipo e sono anche parallelamente musicista di professione suono con jx ormai da sei anni praticamente sono chitarrista l'occorrenza pianista e direttore musicale della band capito che spettacolo molto fico molto fico allora come sai tu non so se ci hai già seguito conosci un po il format comunque te lo spiego te lo rispiego il format funziona così allora questa sera tu sarai con noi dall'inizio quindi nella prima opinione sarai giudice insieme a me quindi ci sarà un utente che porterà la sua opinione pericolosa io dividerò gli altri nelle squadre tra difesa e accusa e noi faremo io e te faremo i giudici mentre invece nella seconda esattamente mentre invece nella seconda opinione tu sei tu che porterai una un'opinione attenzione e anche tra i giudici anche io non dico che cosa ma anche io non sarò tra i giudici quindi poi lo vediamo dopo e noi come giudici mark dobbiamo soltanto ascoltare cercare di capire senza il più possibile senza introdurre i nostri giudizi i pregiudizi cioè quello che noi già pensiamo a riguardo e lasciarci più o meno convincere da quello che viene detto qui per quanto può sembrare difficile a volte impossibile però ci possiamo provare assolutamente sì ragazzi mark di chiede una cortesia prima che la chat non la smette di scrivere mark alzati il volume del microfono se puoi fare qualcosa perché se no assolutamente grazie per avermelo detto rego meno mi sentite già un pochino meglio perché lo tengo volutamente un pochino distante perché per non avere lo sfondo dietro verde che sarebbe in realtà lì ho dovuto un attimo arroccare un pochino tutta la stanza e quindi questa è la posizione più insomma la posizione meno problematica per questo microfono perfetto va molto bene in maniera perfetta quindi allora io ringrazio come tutte le sere giacomo e andrea che sono i nostri moderatori e dico allo stesso tempo a giacomo di fare entrare l'utente di questa sera che si chiama marta quindi mentre aspettiamo marta non so se volete dire qualcos'altro ragazzi oggi è uscita la canzone di quella lì che faceva buongiorno da mondello sul covigiano forse ce l'ho io una questione da te ne parla dopo se ne parla perché di parlare era molto al volo intanto è arrivata marate che hanno normalmente ha una serie di problemi col fatto che io mi chiamo mauro marco si chiama marco matteo ciao ma per ma adesso ci abbiamo gianni e giovanni adriano ragazzi ma vi chiamate tutti uguali in ufficio siete mauro matteo marco mauro mario ma vederò ma avete pure rotter cazzo tutti ovviamente identici sei sei quella è la cosa più divertente adriano che i nostri nomi però non li sbaglia nessuno invece tu sei andriano che altro che altro ma di tutto ma adriatico nelle mail mi chiamano in tutti i modi sono successe c'ho delle mail dove penso che io non lo so veramente come fai a parte andriano vabbè ma adriatico ma come cazzo succede abriatico tanta roba ti invidi un po onestamente ma guarda vabbè comunque marta buonasera ciao ciao che sei tu chi sei che fai dove sei dove sei allora al momento mi trovo a casa mia in romagna sono romagnola nella vita studio linguistica e magistrale a venezia e nel tempo libero insegno all'università sempre come come tutor diciamo ma c'è un tempo libero insegna ragazzi per tirare su qualche soldi dice che faccio vado all'università insegno alla gente quando c'è due minuti costruisco case per i sensate tra l'altro prima di andare a dormire marta vorrei fare un grande complimento al tuo colore di capelli brava grazie mi piace cambiare ovviamente c'è un qualcosa che me lo fa pensare a livello di codino me lo tiravo indietro e poi questo dialogo tra stai zitto cioè si è educato esatto perché infatti pure tu poi ce l'hai blu praticamente e allora marta tu sei quella che inizia cioè stasera che ha portato la sua prima opinione pericolosa quindi a questo punto io ti direi prima ti dico che march sarà giudice con me in questa prima opinione quindi adesso tu ci dirai la tua opinione poi vediamo come fare le squadre come dividere giovanni mauro e gianni quindi vai marta dici la tua opinione pericolosa di questo ok allora la mia opinione pericolosa che in realtà sotto sotto spero mi facciate un po cambiare è giudicare un film non è una cosa per tutti aspetta in che senso nel senso tu dici il senso è che per poter comprendere un film non tutti possono comprendere un film ma ma bisogna essere un po del dell'ambito del mestiere sì poi lo spiego all'inizio è però diciamo che il succo è quello quindi se tu se uno non è del mestiere diciamo che non gode appieno di quello che di quello che è o l'opera se molto banalmente se uno non sa ciò di cui si sta parlando è meglio chissà però qui siamo già entrando nella ring a dire chissà fare sa capire come diceva giovanni qual è così è la vita quello mi ricordo jack andriano fai le squadre che stava in macchina me lo ricordavo che gli due gli dice anche che cazzo di proverbio è e lui gli risponde è la vita giacomo è la vita parlate con un hardcore fan qui diciamo che il sottotesto e chi sa fare sa capire chiama così la live ti prego il sottotitolo è questo va bene allora io quindi giovanni io penso che questa sera non voglio metterti troppo in difficoltà grazie secondo me tu sei abbastanza vicino a questo questo idea a quest'idea va bene dai invece voglio proprio e quindi voglio fare proprio creare uno scontro tra titani cioè voglio mettere da una parte due che pensano veramente in un modo tutte e due e dall'altra due che so che invece pensano forse non proprio quella cosa lì ma l'opposto e quindi un bel giro che certamente pensano che non proprio ragazzi volevo dire delle cose poi mi sono incartate l'ho fatta quindi allora squadre io direi che sono marta con giovanni sì e invece all'accusa gianni e mauro la situazione è questa accanto a te dall'altra parte ci sta gianni di là o di là sotto c'è mauro sotto di te c'è mark accanto a march e c'è marta e io sto sempre al mio posto perfetto perfetto allora come mark come funziona allora adesso faranno due giri cioè nel senso parleranno tutti quanti per due volte poi alla fine lanceremo il sondaggio dove chiederemo anche alla chat quello che pensa dopo che avrà ascoltato quello che loro hanno detto durante il sondaggio ci saranno le arringhe finali che faranno uno per squadra alla fine leggiamo il sondaggio ma poi chi decide siamo io e te esattamente scusatemi la dico ci fa notare che a questo punto se vincesse quest'opinione poi va chiuso i mdb è sì o anche questo no 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 va chiusa solo una parte degli mdb che quella dove gli utenti scrivono cose e basta ma vi sento che stiamo già entrando nel vivo e quindi marta ti lascio la parola braio ok ok allora è molto semplicemente questa opinione nasce da una conversazione che ho avuto con un amico ale che saluto e la cosa a cui siamo venuti alla fine di questo discorso è che siamo accorti che quando si guarda un film o una serie tv o un corto comunque prendiamo i film in generale se non sia una persona che studia cinema o un appassionato che se ne intende o magari se non si lavora e non si conosce quel mondo il mondo del cinema quindi sostanzialmente una persona come me che sono ignorante io studio linguistica nella vita una cosa molto diversa ignorante nel senso che ignoro per rimanere in tema stanno venendo i brividi con tutte queste situazioni esattamente esattamente quindi una persona come me che appunto è ignorante nel senso che ignora non può avere un un'esperienza completa il prodotto che è il film quindi automaticamente non si possono avere gli strumenti per giudicarlo in ogni sua parte cioè di fatto l'utente medio non esperto e non competente quando guarda un film vede solo la trama cioè magari sente la colonna sonora apprezza la colonna sonora magari si accorge quando gli attori sono dei cani e quando effettivamente invece sono molto bravi però non vede le altre cose non fa caso a tutto il contorno che però sono parte integrante del film cioè la regia la sceneggiatura il trucco gli effetti visivi la fotografia eccetera eccetera posso anche fare un esempio molto personale io quando guardo un film la mia prima impressione è quella soggettiva cioè mi è piaciuto non mi è piaciuto e che va benissimo però conta fino a un certo punto perché se ognuno di noi giudicasse un film solo in base alla propria sensibilità cioè in base a chi mi è piaciuto non mi è piaciuto poi non se ne uscirebbe più e poi magari dopo la visione ne parlo con con degli amici in particolare ho un amico che è molto appassionato di cinema che è lì saluto anche lui che magari mi fa notare delle cose che io da sola non sono riuscita a vedere e quindi magari posso rivalutare la mia opinione su questo film poiché ne so magari quindi scusa tu stai dicendo che se non avessi avuto l'occasione di confrontarti e quindi avere il punto di vista di uno più approfondito magari ti saresti persa dei pezzi ok quindi anche il tuo giudizio sarebbe stato approssimativo diciamo esatto perché un altro esempio forse un pochettino più calzante che magari dato che io seguo voi su twitch seguo il canale di mauro se quel canale giovanni quindi magari capita che si parli di un film che ho visto e magari vengo a conoscenza di cose che mi fanno rivalutare il film magari posso dire ok questo film è piaciuto ma oggettivamente ci sono delle cose che non rendono questo film un bel film o comunque il contrario e c'è quello che voglio dire che è logico che ognuno di noi si crea un'opinione riguardo a ciò che guarda cioè perfettamente normale ma se appunto come me si è ignoranti nel senso di profani del mestice del settore di cinema e non si conoscono i meccanismi l'opinione sarà limitata necessariamente a una sfera soggettiva e nel momento in cui ci si confronta con un'altra soggettività non si parlerà più del film ma dei nostri gusti personali e quindi per giudicare un film serve una visione globale che si ottiene solo nei momenti in cui si conosce il mondo del cinema e ciò di cui si è chiaro ok ok direi che ci siamo mauro gianni chi vuole iniziare mauro ti lascio la parola vai ok va bene allora marta tu sei in realtà allora io sono profondamente in disaccordo con questa cosa partiamo dal punto questo da questa questione è solo che la cosa bella di questa opinione è che normalmente chi porta un'opinione del genere tende a cadere nel nella sfera dei dei presuntuosi artisti e invece quello che mi sembra ovvio è che tu invece vieni da un punto di vista estremamente umile invece al contrario in cui dice non mi sento non mi sento legittimata a esprimere un'opinione che sia completa perché non penso di avere i mezzi adatti ora questo ti fa sicuramente onore perché significa che non vuoi sparare sentenze però purtroppo io credo che questo tuo modo di vedere sia comunque dovuto ai di sopra presuntuosi perché il problema è che non esiste e questa è una cosa che credo personalmente non esiste un giudizio oggettivo dell'arte esiste un giudizio oggettivo della tecnica artistica è quello un altro discorso esiste un giudizio oggettivo delle delle cose che si possono fare all'interno dell'arte ma dell'opera in sé finita non può esistere un giudizio oggettivo per la natura stessa dell'arte che è tale solamente una volta messa a confronto del giudizio delle persone quindi il discorso è che una cosa che qualcuno può considerare incredibile pupù potrebbe essere invece dell'incredibile un'opera d'arte esatto un'opera d'arte magnifica né piena la storia né piena la storia di opere che sono state giudicate in maniera terribile quando sono uscite fuori che invece oggi ricordiamo come opere d'arte senza tempo quindi qual è il discorso è che l'opera d'arte e quindi qui io mi metto ci ma sto facendo un discorso più ampio l'opera d'arte è fatta per la fruizione del pubblico non è fatta per la fruizione degli addetti ai lavori nel senso non l'arte non si fa per per chi per chi la fa l'arte la si fa per per tutti quanti per 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 poterla perché tutti ne possano godere e se un'opera d'arte un film ha bisogno di una persona che è effettivamente versata in quell'arte per comprenderla vuol dire che ha fallito perché vuol dire che smette di essere un'opera d'arte vuol dire che smette di essere un'opera d'arte universale con un fallito però sicuramente è meno valida di un'opera che invece riesce a arrivare a tutti quindi il discorso è che non bisogna sentirsi il punto non è che io non ho i mezzi tecnici per capirlo perché per capire matrix non c'è bisogno di 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 essere versati nell'arte del cinema al massimo nell'arte della filosofia sicuramente qualcuno che è più esperto di filosofia può capire meglio quello che c'è in matrix però questo vale per qualsiasi cosa per per qualsiasi questione e qui quindi a va a crollare tutto il discorso che qualsiasi qualsiasi tipo di opera artistica e letteraria cinematografica musicale ha il diritto di essere giudicata da ogni persona e se una persona non arriva a determinate determinate conclusioni vedendola il problema non è che non ha i mezzi per capirla il problema è che evidentemente quella cosa non gli ha comunicato quelle determinate quelle determinate questioni poi se una persona è umile come te può arrivare a dire ok io non l'ho capita però forse sono io che non ci ho capito qualcosa quindi adesso me lo faccio spiegare da qualcuno che magari l'ha capita ma il il la questione inversa ovvero voi non avete di voi plebei non avete diritto di giudicare questa roba perché non avete le basi necessarie per capirla diventa poi contraria a quella che la democratizzazione dell'arte ovvero il concetto che tutti quanti ne possono soffrire diventa diventa poi una dittatura artistica nel quale c'è un gruppo oligarchico di persone che decidono qual è l'arte perché ne sanno di più degli altri e gli altri devono solo stare zitti perché non hanno assolutamente il diritto di giudicare ed è una maniera estremamente triste di vedere l'arte insomma allora prima di andare avanti marchi se tu vuoi fare delle domande oppure dare delle delle suggestioni per portare la discussione da una parte o dall'altra per capire meglio puoi farlo nel senso ancora troppo presto sono ipnotizzato da entrambe le fazioni aspetterò poi appunto la fine prima di poter dire la mia e allora vai giovanni ma la risposta di mauro è un po la scoperta dell'acqua calda nel senso è ovvio però è così però è così e perché nel senso stai parlando dell'ovvio e l'ovvio che l'arte è fruibile da tutti il cinema è arte la musica è arte la buona cucina è arte ed è ovvio che viene fatta per tutti qua non si sta parlando che del fatto che nessuno ne può parlare che nessuno può dare un suo un suo personalissimo giudizio qua si sta parlando del fatto che c'è diversa gente soprattutto negli ultimi anni che siamo nell'era dei tutologi che sale in cattedra a giudicare in maniera più professionale delle cose di cui non ha veramente idea né di come si fa né tanto meno di che cosa ha visto o che cosa ha mangiato che cosa ha bevuto perché c'è un sacco di gente che con l'era di internet si mette a dire a me piace il cinema quindi io di cinema ne capisco quindi io posso dare un giudizio da esporre al largo pubblico su quello che è il cinema o su quello che è quel determinato film purtroppo questo non è possibile cioè io vado a vedere un film ma non è piaciuto lo dico cioè lo posso dire ne posso parlare ma non dico io giovanni santocito io chiunque come persona do un mio giudizio quel film non mi è piaciuto per 200 mila motivi che possono essere quella sera merode per culo che può essere non mi piace quell'attore non mi piace quel regista non mi piace quell'argomento eccetera o quel film che a tante persone non è piaciuto a me piace perché amo quell'attore amo quel quella situazione amo quella cosa eccetera eccetera il problema sta solo nel alzarsi in piedi mettersi in cattedra e giudicare una cosa quando non si hanno i mezzi per poterlo giudicare quello che dice marta è semplicemente questo amo il cinema vado a vederlo amo è anche una studiosa quindi sicuramente lei ha molto più modo di parlare di determinate cose rispetto ad altre persone quindi cerco di analizzarlo ma mi rendo conto che in alcune cose ho delle pecche a me piace mangiare piace tantissimo mangiare io ogni volta che posso e lo so però è così io ogni volta che posso se vado in una città quando andavo in una città straniera non mangiavo mai non mai mangiato al ristorante italiano cercavo sempre il ristorante straniero c'è del luogo perché voglia assaggiare la cucina del luogo ma questo non mi permette minimamente di salire in cattedra e a giudicare quel piatto in maniera no ma è troppo sapido non è sapido c'è la croccantezza non c'è la croccantezza tutte quelle cazzate che sentiamo tutte quelle cose che sentiamo mai da poterci rivendere perché molta gente usa questo lessico perché l'ha sentito dire da grandi persone io quello che posso dire che ovviamente lo dico è mi è piaciuto non mi è piaciuto e fino alla ci sono perché sono i miei gusti personali se guardo guernica a me piace ma non ti so dire perché io non sono esperto d'arte vedo una cosa mi rendo conto che mi piace ma se tu dici perfetto parlamene esponi il perché ai ti piace questo quadro dico zio purtroppo non è il mio ambiente non è il mio argomento mi piace punto non so spiegartelo perché non sono esperto questo è amo grazie a giovanni perché ma regola troppo gentile e quindi mi aveva fatto rispondere con pacca è no adesso incazzare perché il mio lavoro è solito una marea di cagate non è vero passati 30 minuti è già se ti prego no ma è giusto così è giusto che a un certo punto poi anche velocemente ci si scaldi un po' e se noi opinioni da sera noi opinioni pericolose quindi dobbiamo caricare fanno rovere il culo esatto cambiamo il titolo adesso io voglio partire da questa cosa che ha detto giù dei ristoranti io sono un barman ho fatto barman per tanti anni e devo essere sincero che ho capito una cosa alla gente non è non interessa tanto il modo in cui lo fai quanto piuttosto se è buono meno una cosa un ristorante campa e riesce a funzionare se la gente ci va e dice che gli piace quindi il fatto che dici tu il fatto che una cosa possa funzionare solamente se effettivamente una persona riesce a vederci tutto quello che è intorno relativamente perché un ristorante riesce ad essere grandi ad avere grande successo grazie al pubblico che ci va a mangiare ogni volta magari anche se non è esperto di cucina assaggi dice beh effettivamente è una cosa ottima questa cosa qui per ritornare al discorso sul cinema io vi voglio fare un piccolo ragionamento che diceva gianlu godard che è uno dei più grandi autori della novella ma di una piccola citazione di godard che lui diceva che i critici sono dei registi mancati questo per dire che che tutte cose che è chiaro della che gli arbitri sono dei calciatori mancati vabbè godardi diceva così io prendo italiano medio io sono più l'italiano medio fare fa chi non sa fare insegna chi non sa insegnare insegna ginnastica esatto no questo per dire che secondo me essere tra virgolette critici aver studiato cinema non significa che uno può mettersi sul piedistallo e può essere l'unico in grado di giudicare questo perché perché effettivamente come diceva lo stesso benedetto croce che è uno dei più grandi filosofi del novecento l'opera d'arte ha una sua autonomia capito cioè quando noi vediamo croce che peraltro è di pesca seroli paese di mio nonno guarda un po' pensa un po' benedetto croce parlava dell'autonomia dell'opera d'arte un'opera d'arte una volta che viene partorita da un autore inizia a diventare o meglio diventa automaticamente autonoma l'autore non la controlla più in nessun tipo di aspetto i critici non possono giudicare il loro giudizio il loro metro di giudizio sulla vita magari che ha fatto l'autore sicuramente si possono cogliere degli aspetti un po' più importanti ed essenziali ma quando quell'opera d'arte viene fruita da un'altra persona che si trova al di fuori di quel concetto della vita anche al di fuori magari di zone diciamo di lassi temporali quest'opera d'arte assume un ruolo è completamente autonomo e diventa proprietario appunto dello spettatore questo per ritorno al discorso cinematografico quando si vede un film effettivamente secondo me non c'è bisogno di guardare e di sapere tutto l'aspetto tecnico che c'è dietro perché diciamoci la verità un film è bello punto e basta cioè è difficile trovare quei film magari capolavori ecco noi per esempio citiamo molto spesso ultimamente determina al determina se lo vedete anche se non avete quelle competenze tecniche specifiche non c'è bisogno abbiamo parlato ai filosofo a studiare non c'è bisogno effettivamente di una vera e propria conoscenza perché il cinema il film non è nient'altro che è una macchina perfetta ok è come un'automobile se tutti gli ingranaggi di un'automobile funzionano correttamente quel prodotto è giusto è fatto bene e può essere apprezzato da tutti non c'è bisogno di conoscere il retroscena del regista che ha fatto il movimento di macchina perché in quell'occasione non ce n'è bisogno perché effettivamente il film funziona proprio perché è il pubblico che lo guarda il pubblico che lo giudica i critici i critici un po tra virgolette sono anche un po la rovina del cinema nel senso che si mettono appunto sul piedistallo e cercano di giudicare prodotti che effettivamente al pubblico possono piacere o non piacere ma il successo l'insuccesso di un film non è dettato dai critici ma è dettato dal pubblico se io mi guardo un film della marvel e la marvel ha un grandissimo successo pur non sapendo gli aspetti tecnici perché la maggior parte delle persone che guardano film marvel non sono appassionati di cinema nel dettaglio possono comunque apprezzare quel prodotto in sé perché la marvel è riuscita a creare un prodotto abbastanza omogeneo che funziona e quindi può essere giudicato un prodotto anche se non si è appunto intenditore non si ha studiato non si hanno le basi per studiare perché appunto si esce fuori dall'oggettività fatta di per sé e si va nella soggettività proprio dell'autonomia dell'opera d'arte come diceva il buon claudio di biaggio è oggettivo secondo me secondo me nella storia durante la discussione a certo punto se no no ragazzi è oggi secondo è oggettivo secondo me pensi che sia arrivato il momento di dire qualcosa non lo so comunque allora io fatico molto a dire qualsiasi cosa che non sia già un giudizio un'opinione no 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 è per questo qualsiasi cosa che vado a dire no però se vuoi indirizzare la se vuoi indirizzare chiedendo di parlare di un aspetto piuttosto che di un altro per capire qualcosa di più o meglio allora l'unica cosa che sto pensando in questo momento è che intanto io sono fortemente appassionato di cinema non mi ritengo tuttavia un esperto e quindi dove sta la differenza che non sono uno di quelli che ha studiato particolarmente tanto storia del cinema faccio per dire storia del teatro eccetera mentre ho passato molto più tempo a fare ea studiare la materia attivamente quindi non so se lo sapete ma io ho studiato più o meno in termini di tempo tanta musica quanto teatro quanta recitazione edizione doppiaggio eccetera eccetera studiati più o meno quasi uguale leggermente più la musica quindi il mio parere comunque è leggermente sicuramente plasmato un pochino da quella che è la mia attività sia per quanto riguarda il lato teatrale sia soprattutto per quanto riguarda il lato musicale più che altro perché lì ho più esperienza nel senso che ho raccolto ho fatto più cose in sostanza in lato musicale e ci sono moltissime analogie con il mondo del cinema e il mondo della musicale al di là del fatto che poi ovviamente le due sfere si sposano perché trovi la musica nel film vabbè ho capito ma non è questo quello che sto dicendo e quindi ci sarebbero tantissime cose anzi ci saranno tantissime cose che avrò da dire a riguardo ma se scendo più nel dettaglio di così comincio a dare la mia opinione quindi va bene e allora andiamo avanti adriano però io voglio leggere volevo leggere un commento di tonnara boy che dice questa cosa che chi non sa insegnare insegna ginnastica l'ho detta cena la sera che ho conosciuto i genitori della mia ex e nulla il padre era un prof di ginnastica e infatti e infatti era detto ex infatti ad esatto ecco però bastava lì potevi essere tranquillamente paraculo e dire ma sì volevo vedere se avevi visto il film esatto che viene pronunciata esatto no e poi fatti a ex per un motivo però vabbè poteva provare a provare comunque intanto la marta io volevo solamente consigliarti adriano eventualmente alla fine della dell'opinione se a gianni fai gli chiedi una un argomento a piacere così prende la lode sì perché hanno scritto il chat hanno scritto a quindi oltre aver seguito la prima lezione di cinema ha seguito anche la prima lezione di allora e filosofia attenzione perché giovanni è successa una roba de gas 77 appena regalato 10 abbonamenti alla gente che sta in chat de gas 77 è la prima volta credo di vedere questo nick quindi grazie mille ben arrivato se appunto la prima volta che fa una cosa del genere ragazzi sapete che ci piace molto quando donate gli abbonamenti e per chi ha ricevuto l'abbonamento se scrivete punto esclamativo telegram avrete il link del canale telegram grazie e se scrivete punto esclamativo mark avete pure link di tutti i soldi di marco esatto si è buttata la vai marco vai marta ok allora allora porto un altro esempio personale che però non riguarda me ma mia madre ora è una sera in mezzo le mani e poi è complicato mai più mai e no finisce come gue pequeño poi è complicato comunque dai ormai te la facciamo passare esatto io posso nominar la mia madre allora è stata una sera in cui su sky davano mad max fury road e mia mamma ne ha guardato un pezzettino e al che dopo un po lei si gira mi fa ma che te guardi sta roba e guarda che oltre al fatto che ha vinto un sacco di oscar poi è figo così e lei mi ha chiesto ma cosa c'è di figo in un gruppo di persone che vanno da un punto a a un punto b cosa è arte questa la trama effettivamente è questo sì sì esatto allora io ho provato no a spiegarle no ma c'è ma vedi comunque c'è tutto fatto poi ho provato a farle vedere il come cazzo hanno fatto insomma tutto quanto ma comunque lei non siamo stati efficaci no non si è schiodata c'è lei comunque vedeva una cosa che non c'è non inutile però vabbè lei è molto appassionata di commedie romantiche quali non so no più siamo più sull'americano not in gill anche i primi primi film di mcconaghy ecco lei quei film li apprezza moltissimo e quindi lei dice che quei film sono belli e sono belli per lei che ha questa soggettività qua che le piacciono i film romantici un film come mad max anche un film della marvel cioè come io ci provo a spiegare a mia madre perché è figo perché ripeto il discorso non è giudicare in modo personale e soggettivo quello ognuno di noi alla propria che ha la sua soggettività per cui io posso dire a me mad max fa cagare perché secondo me è solo un gruppo dice non è veramente a mia opinione però comunque a me mad max fa cagare perché vedo solo un gruppo un gruppo di gente che va da un punto a a un punto b e boh fanno robe si sparano si fanno saltano da una moto all'altro eccetera però riconosco che oggettivamente è un bel film perché è un bel film c'è una c'è una mano alzata volevo fare una semplicissima domanda tu non pensi che anche i critici siano soggettivi o in qualità di critico sei sicuramente oggettivo giusto per beh allora è la soggettività conta però non può contare solo quella è quello che sto dicendo quello che dico io è che per giudicare un film devi avere una visione deve avere un'esperienza totale ok cioè devi vederlo in tutte le parti e tutte le parti significa avere una propria opinione personale da riguardo cioè mi è piaciuto non mi è piaciuto perché acqua a marta giusto giovanni si installi sta libro e sapere anche cosa rende questo film oggettivamente un bel film o no cioè come fai tu a dire cioè se io ti chiedo mad max è un bel film e tu mi dirai cioè è oggettivo che è un bel film si o no io credo che la maggior parte della gente mi dica mi risponda di sì no però posso andare io faccio andare aspetta ai filosofi no nel senso finisci marta finisci poi diamo la mamma sì no avevo finito sostanzialmente è questo quindi tu ok io ho capito ho capito in pieno cioè tu dici se non hai le competenze per capire tutto quell'impianto di un film finisci come tua madre il senso è che io l'avevo detto scusate c'è una cosa marta sempre perché io sono quello che va dietro la chat c'è un problema in chat si vedono due frigoriferi accanto a te perché hai due frigoriferi ti prego perché se no non la smettono più perché noi in casa siamo in sei io ho quattro siamo in quattro e quindi dobbiamo mangiare in qualche modo giustamente grazie marta una per la verdura e l'altra per le altre cose che sono verdure e frutta perfetto mi sembra grazie e scuse ci siamo fatti ma insieme logica la perdita e tutto ciò che non è verdura facile effettivamente allora oddio da dove iniziare no marta non sono d'accordo non esiste l'unica cosa che esiste di oggettiva su questo universo e la matematica non c'è nient'altro di oggettivo non esiste il giudizio oggettivo tutto quanto che quello che c'è per quanto poi anche la matematica sì per quanto anche la matematica c'è anche la fisica meccanica ha funzionato fino a un certo punto che io tiro fuori aspetta che tiro fuori la matematica la matematica io il mio jolly ok sei un boomer giovanni perché il discorso è che non esiste non esiste l'oggettività tranne lui perché tra 2000 anni magari arriverà qualche stronzo che dovrà giudicare pink floyd non influenzato dal fatto che ha avuto una generazione di stanza dalla loro uscita ma ci avrà avuto duemila anni dalla loro uscita il discorso è questo discorso è come diceva adriano è una questione di sistemi di riferimento la matematica è l'unica che ci permette di avere dei sistemi di riferimento comuni e quindi possiamo ipotizzare che sia quantomeno oggettiva tra di noi ok ognuno di noi per esperienza delle cose tramite se stesso e solo tramite se stesso ok quindi per definizione ogni esperienza rimane sempre ed unicamente soggettiva ora ci sono alcuni di noi che possono cercare di fare uno sforzo e cercare di eliminare tutti i bias personali per quanto è comunque impossibile e cercare di quindi fare un discorso il più oggettivo possibile ma comunque rimane soggettivamente oggettivo cioè rimane la mia versione di ciò che è un discorso oggettivo è sempre quello il discorso e non se ne esce un paradosso quindi la questionetto cercando di tornare un attimo all'argomento tua madre non ha un problema di cultura cinematografica ha un problema scusami ha un problema di bagaglio culturale tua madre è cresciuta guardando un certo tipo di film si è abituata non ha mai visto un certo un altro certo tipo di film non ha mai avuto la possibilità di capire che cosa c'era dietro quel tipo di film e adesso all'età che a tua madre che noi do quali sia però immagino sia sia arrivata oltre l'età in cui è pronta a cambiare il proprio bagaglio culturale a un rifiuto per quella roba non è una questione di giudicare o non giudicare per la quantità di cinema che conosce è semplicemente un altro discorso ragazzi cambiamo il nome della live diventa la mamma di marta esaggione poi ci cliccano tantissime persone giusto per capire io ci tengo in realtà io ci tengo in realtà a ma poi perché purtroppo metto in mezzo anche mia madre anche ho avuto un discorso simile con mia madre riguardo alla scena di combattimento di kingsman che giustamente rimane avvisto fatto via una pista ma per chi fa sta violenza eccetera eccetera quindi al di là delle madri in realtà ci tengo in realtà c'è un film è il mio prossimo delle madri al di là delle madri no io ci tengo in realtà particolarmente a rispondere a giovanni e dirgli una cosa che valeva giovanni ricordati che si è sempre lo stupido di qualcun altro è questo problema a nessuno piace la gente che sale in cattedra a nessuno ok ma il problema è che non ho mai sentito mai sentito qualcuno dire ragazzi allora in questo film è con questa voce a ragazzi allora questo film questo opera d'arte in generale è oggettivamente una merda e lo dico dall'alto del fatto che non capisco un cazzo ovviamente chiunque esprime un'opinione poi ti dice che lui è legittimato da avere quell'opinione ti dice che lui ne capisce di quell'opinione è il problema sei tu col tuo giudizio oggettivo che stai decidendo che questa persona non ne capisce abbastanza da poter esprimere quell'opinione ma quella persona pensa di essere legittimato ad esprimere l'opinione così come tu pensi di essere legittimato ad esprimere la tua opinione così come le mille persone io spero di lavora di fare tutta la mia vita lavorando nel cinema ok ma e quindi esprimo immagino che sono una di quelle persone che marta riterrebbe legittimate ad esprimere un giudizio ok se domani arriva fincher e mi dice ma tu che cazzo sei ma tu che cazzo ne capisci te lo fai dire c'ha ragione lui e allora giovanni nessuno è legittimato ad esprimere un'opinione perché sei sempre lo stupido di qualcun altro c'è sempre qualcuno che ne capisce più di te c'è sempre qualcuno che è più in grado di te il problema è qui e qui concludo è che per quanto vogliamo essere purtroppo un po invasi ho letto un sacco di di solidarietà per te nella chat ho detto ah perché pieno di gente che dice un sacco è stronzata non è legittimata giovanni ma non siamo noi a deciderlo l'importanza della voce di qualcuno la decide chi lo sta ad ascoltare quindi se qualcuno ha un enorme pubblico di persone che lo stanno ad ascoltare non sono io a decidere che la sua opinione non vale un cazzo io l'unica cosa che posso fare è cercare di trovare una contro argomentazione cercare di mettermi a confronto con questa persona cercare di spiegargli perché secondo me non sono d'accordo dire a qualcuno che semplicemente perché la sua opinione non mi va a genio lui non è capisce un cazzo non è legittimato a dire quella cosa ripeto si tratti si ritorna a quella questione di 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 far soggettivismo anche perché casualmente questa cosa succede solamente con le persone che esprimono opinioni che vanno contro quello che tu pensi non tu giovanni ovviamente ma in persona tu non sentirai non ti sentirai mai infastidito da qualcuno che esprime un'opinione saccente con cui sei d'accordo perché ci sei d'accordo è quello a me personalmente no il problema il problema è che quindi il discorso è che per quanto sia fastidiosa la gente che sale in cattedra ha il diritto di salire in cattedra ha il diritto di ragionare proprio perché salendo in cattedra ci dà la possibilità nel caso non fossimo d'accordo di salire anzi no di metterci davanti alla cattedra dato che non è mai bello salire in cattedra e cercare di spiegargli perché dovrebbe scendere da quella cattedra ma il fatto che lui non debba essere legittimato ad esprimere la sua opinione è follia e fascismo esagerato adesso pure fascismo ci hai messo di mezzo no il libertà di pensiero il problema sì la libertà di pensiero il problema è che come come ho detto prima e lo ripeto chiunque si sente in grado di poter giudicare qualcosa a livello tecnico comunque andando in maniera molto più dettagliata del mi piace o non mi piace semplicemente perché è un appassionato di quella roba lì io che tiro fuori il cd del disco di pin floyd io di musica non ne capisco niente io facevo il dj non so suonare assolutamente niente per me the wall di pin floyd e the dark side of the moon sono i due album migliori della storia ma è un mio giudizio è un mio giudizio perché comunque in generale non ho ascoltato tutta la musica che esiste sul pianeta e per quello che ho sentito io per come a me piace la musica per me quei due sono i due album migliori della storia non salirò mai in cattedra come molti fanno a dire il l'album di mazinga z è il più bello di tutti io ne so voi non ne capito un cazzo perché c'è molta gente che lo fa il motivo per cui a me non da come sempre rispondere a mauro a me personalmente non è che non dà fastidio chi invece poi ha la mia stessa opinione a me semplicemente dà fastidio chi si permette di parlare di un argomento che in realtà non conosce è quello che stiamo vivendo negli ultimi anni io per questo sono tremendamente d'accordo con marta non solo per questa cosa ma in generale perché siamo pieni di recensori ed è sto cazzo siamo pieni di gente che parla di cose senza sapere esattamente di che cosa sta parlando tu dici ma quindi noi siamo legittimati noi non siamo dei critici quindi non ne parliamo a livello critico di determinate cose ma ci lavoriamo ci siamo dentro conosciamo i sistemi sappiamo come funzionano tutta una serie di meccanismi quindi se il l'appassionato di cinema è a livello due per poterne parlare semplicemente perché vede tanti film noi almeno a livello 6 ci siamo poi c'è il critico diciamo a livello 5 se è più contento va bene poi c'è un sistema assurdo stai dando dei livelli alle capacità di giudizio delle persone no alla capacità di giudizio personale a capacità di poterne parlare del proprio giudizio è quella la cosa di poter salire in cattedra e parlarne di potersi aprire un cazzo di canale youtube dove fanno la recensione delle cose di poter argomentare delle cose di cui non sanno di che stanno parlando la maggior parte delle volte perché è pieno di questa gente io mi sono ma zio ma che cazzo sta dicendo chi lo stabilisce ma fatti in giro su youtube e vedi e cerca recensioni queste persone non ne capiscono un cazzo ma lo capisci se non ne capisco un cazzo lo capisci da diverse cose lo capisci da diverse cose a parte che molte volte te lo dicono loro stessi che cosa fanno non fanno nella vita e quindi il collegamento col mondo del cinema o con la critica del mondo del cinema non ci azzecca un cazzo e quindi lo sanno benissimo che non ne posso che non ne potrebbero parlare ma ne parlano molte volte per gusti personali ed è quello il problema che i tuoi gusti personali sono assolutamente legittimi in un discorso fra amici in una discussione dove guarda a me onestamente piace questo per questo motivo ma la recensione di tenet o la recensione di questo che se cerchi su youtube è pieno di tutta questa roba ce ne sono due tre che hanno il bagaglio culturale per poterne parlare tutto il resto è gente che semplicemente ne vuole parlare ed è sbagliato perché da quella piccola cazzata da io mi metto a parlare del film semplicemente perché mi è piaciuto perché poi finisce non che ne parlo in maniera oggettiva noi che ne parlano in maniera critica del film ma ne parlo in maniera oggettiva scusato sbagliato a me mi è piaciuto a me mi non si dice ma in quel caso molte volte si dice no no si dice giorno non parte abbindolare queste cose fermi tutti fermi tutti marta spiegaci questa cosa troppo lungo non mi interessa marta perché io ho quattro anni di vaffanculo adriano santucci se questa cosa si può dire villa ma non è la sede giusta adesso per parlarne però si può dire beh posso comunque spezzare una lancia in favore della me mi perché in spagnolo si dice per forza a mi me non puoi escluderlo quindi non puoi dire a me devi dire a me mi mi lo dirò però capito alla vita grazie grazie vuoi dire che stavi facendo un escursus in spagnolo grazie mark grazie martha comunque così a caso quindi il problema è questo perché poi ci ritroviamo adesso io non voglio non voglio giocare troppo sull'attuale ma ci sarebbe molto da giocare sull'attuale e la chiudo qua perché se no se comincio a elencare è troppo facile e quindi la chiudo qui è pericoloso la parentesi quando finisci prima certo mark prego io ho finito grazie la piccola parentesi di quello che dice giovanni è oggettivamente vera perché al di là di quello che il mio pensiero che poi arriva dopo però è vero che se non hai le competenze di dire di giudicare questo quello quell'altro diciamo che fare una cosa tipo aprire un canale di un canale youtube e spacciarsi per critico è una cosa facile diciamo è facile abbindolare le masse innanzitutto secondariamente puoi dire delle cose del tipo faccio per dire 1917 non mi è piaciuto è un film del cazzo perché ha una brutta trama e non tieni neanche in considerazione il fatto che è stato fatto in pieno sequenza è una cosa di cui non puoi tenere conto in una situazione come questa quindi quello che hai detto è oggettivamente vero non tutti possono fare i critici questo è fuori discussione però la mia opinione e poi non è esattamente questa è un'altra cosa volevo solo fare allora manca manca solo gianni per chiudere questo secondo giro e poi lanciamo il sondaggio e andiamo con le ringhe finali vai gianni allora gio ha detto una cosa che secondo me è la chiave di lettura precisa per questa opinione cioè al fatto che se uno vede tot film naturalmente non può esprimere un giudizio così come l'altro come un altro che magari che ne so per esempio io che per l'università ho dovuto vederne abbastanza diciamo così di film in realtà una cosa conseguenziale al vedere opere d'arte è proprio la forma la formazione del giudizio più cose vedo più posso avere un metro di giudizio ampio per poter giudicare una cosa quanto mai fantomaticamente oggettivamente il problema è che l'oggettività comunque non esiste perché una io adesso non voglio citare la mamma di marta ma citerò mia madre citerò mia madre perché io per la mia tesi di laurea che sto facendo sui supereroi l'avete detto anche al quiz se mi avete perculato adesso ve lo dico si sto facendo una tesi sui supereroi e ve la farò leggere a tutti quanti ma col cazzo gianni scusa tutto il bene che ti voglio da publicist da tuo publicist la prossima volta di che stai facendo una tesi sull'importanza a livello di marketing cinematografico dei cinecomic nell'era moderna vedi come mauro vende le minchiate devi farlo così ok grazie quindi stavo dicendo io ho fatto un esperimento perché dovevo fare la mia tesi ho detto mamma so che tu hai il pregiudizio riguardo questi film perché come tua mamma anche lei preferisce le cose un po più romantiche oppure le piacciono un po di più i thriller non fare illazioni su cosa preferisce la mamma fallo parlare adesso adesso siamo stati bravi fino adesso ho fatto vedere praticamente tutto il marvel cinematic universe a mia madre il risultato quale è stato è stato che è morta che ha apprezzato molti di quei film questo perché perché ti voglio far capire che secondo me il tuo tipo di giudizio quello che stai dicendo tu questa tua opinione si basa più che altro e soprattutto su quello che hai detto riguardo tua madre riguarda più che altro sui gusti che cambiano a livello temporale semplicemente una volta andava di più il film romantico è cresciuta con quelli e gli piacciono quelli la grandezza secondo me della marvel è che riesce ad avere stili differenti e quindi a utilizzare generi differenti e quindi può piacere un po a tutti vabbè ok quindi quello che comunque voglio dire quello che comunque voglio dire è che il cinema ma in realtà l'arte in generale ha una sua autonomia e molto spesso capita che ci sono dei capolavori che noi oggi consideriamo tali che sono diventati capolavori sono diventati tali solamente grazie a persone a pubblico qualsiasi che lo ha visto e detto ma sai che c'è secondo me qui dietro c'è un po di più ti faccio un piccolo esempio che è 2001 odissia nello spazio 2001 odissia nello spazio fu praticamente annientato dalla critica americana non vendette per un cazzo fortunatamente gli hippie videro questo film e scorsero dentro il film qualche cosa di più successivamente con l'andare avanti nel tempo con lo sviluppo di un nuovo pensiero di un nuovo gusto da parte del pubblico si è riusciti ad apprezzare quel film quello che dice gio riguardo a che tutti quanti possiamo aprire un un canale youtube e quindi tutti quanti abbiamo tra virgolette il giudizio di giudicare è vero sicuramente io oppure posso aprirmi il canale youtube e dire sono un esperto non lo so di cemento io voglio recensirvi il cemento lo posso fare sicuramente questo è purtroppo però questo sono tanti tipi di cemento ragazzi scusate ma io lo vado a cercare subito io voglio vedere cemento vi prego mi iscrivo subito con tutti i miei canali recensione cemento recensione cemento armato del 2007 allora visto che c'è quello che voglio dire io è che la tua critica gio si sta puntando troppo su un tutti quanti possono parlare purtroppo è l'era di internet e tutti possono parlare ma di tutto è un problema marco sconvolto dal cemento ma no ragazzi come livellare un pavimento recensione trapano cioè ragazzi mi avete cambiato la vita è visto io ti voglio portare un altro vabbè gianni chiusi ti voglio portare solo un'altra piccola cosa voglio citare anche una piccola una piccola cosa di mark che ha fatto in un suo video dove parlava dei testi più strani delle canzoni e tra questi citavo una canzone che a me piace tantissimo degli oasis che è supersonic ok in questa canzone il testo è completamente sconclusionato ma se tu la senti ti piace non lo capisci perché non è una cosa non è una questione di oggettività è una questione di soggettività ma tutta l'arte è soggettività e quindi tutti possono esprimere un giudizio non è che se il testo è sconclusionato allora vuol dire che la canzone fa cagare così come se non è detto che una regia è pessima vuol dire che a una persona non può piacere un determinato film tutti hanno il diritto di giudicare perché tutti hanno gusti differenti e chiudo dicendo una piccola cosa che dice walter benjamin che è un altro storico dell'arte ma ora ti ha massacrato da quel punto di vista ti ha distrutto siamo dalla stessa parte sì ma ti ha distrutto da quel punto di vista vai gianni vai vai che lui parla di arte come rappresentazione dell'infinito e dell'assoluto l'arte è quella cosa che non riesci a spiegare oggettivamente proprio perché si avvicina è la cosa più umana che si avvicina al concetto di divino ho finito allora ma mi sono mi sono frizzato sì Adriano ti sei frizzato in una posizione meravigliosa perché sei col dito qui così quindi sembra che stai pensando un qualcosa di intenso allora io rimarrei così esco e rientro certo esce e rientra esce e rientra ragazzi parlate male di Adriano adesso mentre aspettiamo Adriano io Gianni dato che sono adesso sono reduce dall'export del come cazzo hanno fatto su Kubrick ti volevo aggiungere a questa cosa del 2001 il fatto che perché gli hippie trovarono molto interessante 2001 eh non lo so io lo so non l'ho voluto dire perché si facevano le canne subito prima di andare esatto allora lo volevo dire e a quel punto la campagna marketing insiste un sacco sul fatto che il film venne definito il film più psichedelico della storia e quindi poi tutti i drogati andarono questo è un altro discorso allora ci avete un capolavoro oggettivo oggettivo siamo arrivati alla fine adesso è il momento del sondaggio quindi in chat apparirà il sondaggio dove tutti quanti voi dovete votare mi raccomando ricordatevi che non basta scegliere l'opzione dovete anche cliccare su vota mi raccomando perché se no non viene preso il voto e durante il tempo del sondaggio che sono circa 5 minuti potete fare le vostre ringhe finali per la difesa la farà Marta per l'accusa chi la vuole fare io ho altre cose da dire Gianni vai 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 mi raccomando Marta mi raccomando non ti farà bindolare da sti due a me e me no in realtà a me vai Marta però io voglio sapere la storia di a me e me magari in privato Gianni non basta chi ha detto che si può dire io sono felice così basta allora in realtà dopo tutto sto parlare della soggettività dell'arte cioè mi è sorta una domanda ed è questa se l'arte è soggettiva ed è per tutti allora perché ci sono dei corsi all'università su di cioè perché c'è l'accademia di belle arti perché c'è il ci sono scuole di cinema ci sono conservatori ci sono scuole di musica e però qua me la servi su un piatto d'argento e allora ci sono dei musicisti che non hanno studiato niente eppure sono diventati alcuni degli artisti più importanti della storia aspetta aspetta facciamo finire poi sì ma quello è fare arte quello è fare arte io dico anche cioè dato che io la prendo dall'altro punto di vista cioè fruire l'arte non farla e esistono dei cioè a scuola si fa storia dell'arte e ci sono dei corsi per no imparare a ad essere critici su quando si parla di arte e perché ci sono dei 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 corsi di questo tipo ma in realtà in realtà quello che volevo dire cioè questa è una domanda che volevo rispondere ma dato che c'è la ringa finale adesso faccio la ringa finale e niente semplicemente io naturalmente non volevo dire che nessuno è allora in diritto di giudicare un un film a parte quelli che lavorano e studiano eccetera la la questione è che appunto io scusate scusami Marta mi sono appena reso conto che nel sondaggio c'è un'incredibile doppia negazione io non c'è capita assolutamente un cazzo no ma Marta poi tu da linguista nel senso esatto indicare un film non è una cosa per tutti si no io non ce ne so capire comunque prego Marta eh lo so ragazzi ormai è andata così aspetta proviamo a spiegarla Fabio Fazio però aspetta aspetta spieghiamola in realtà non so qual era il senso che gli volevamo dare però potrebbe essere che decidiamola adesso non è una cosa no aspetta aspetta non è una cosa per tutti allora 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 sì quindi non è una cosa per tutti quindi votate sì se siete con Marta e la difesa votate no se siete con Gianni e Mauro ok sì con Marta e Giovanni no con Mauro e Gianni era facile questa è la prima volta che forse è stata veramente faziosa questa cosa perché era facile attenzione perché vai se 50 e 50 c'è un ribaltamento eh chissà come mai giusto negli ultimi minuti a me era venuto cioè oltre che dal discorso che dicevo all'inizio con questo amico in realtà questa cosa mi è venuta semplicemente perché tante volte a me piace molto parlare di film ma perché io ne guardo tanti e quindi mi piace parlare con una persona che ne guarda altrettanti così abbiamo un dialogo bello siamo tutti amici il problema qual è che tanto spesso purtroppo mi capita di parlare con della gente che magari parlando di film incredibili magari mi dice sì no molto bello però la fotografia era un po' scarsa al che mi viene a dire ah no cioè spiegami perché ah boh non lo so ho letto questa cosa ma magari questa persona non ha idea non ha mai non lo so come funziona la fotografia e le cose e però dice sì però secondo me è un po' scarsa ma allora scusa se tu non fai quella quella roba lì non sai come funziona e mi dai questo questo no adiano sei mutato eccolo sì che non leggiamo giovanni lascia perdere vai mauro allora tutto tutto giusto tutto corretto quello che hai detto la questione comunque stanno battendo un voto alla volta io pare uno vai vai tra biden velocemente velocemente cerco di riassumere tutto quello che hai detto la questione è che dobbiamo fare un distinguo molto importante tra l'arte che è l'obiettivo finale la tecnica artistica che è quella per arrivare a creare l'obiettivo finale che è l'arte e l'analisi dell'arte stessa a posteriori sono tre cose diverse ok l'arte è una cosa che esiste e viene percepita a prescindere dalla tua dalla tua dalla tua cultura dal tuo insegnamento è una cosa che arriva ok dopodiché c'è la tecnica artistica che è quella che puoi andare a studiare ovvero come fare al meglio quell'opera d'arte per farla arrivare a quante più persone e poi c'è la gente che invece studia l'analisi ovvero come cercare di capire come mai quella cosa a posteriori è arrivata in quella maniera a così tante persone chi però studia non studia per dirti come tu devi trovare quella quella opera artistica ti spiega solo a posteriori come mai tante persone hanno trovato in quella maniera quell'opera artistica quindi questa è la risposta relativamente a se non c'è bisogno di studiare cosa studia a fare la gente questo discorso e c'è anche c'era anche un commento di Cristi di Ammorbidente prima in chat con cui ovviamente allora chiunque studia cinema a scuola smetta di studiare tanto l'opinione di un panettiere vale lo stesso della tua allora ragazzi se studiate cinema perché volete che la vostra opinione valga di più di quella degli altri smettete di studiare cinema al massimo voi state studiando cinema perché volete capire meglio come quella arte ma lo fate semplicemente per un mal riposto senso di desiderio di superiorità nei confronti delle opinioni degli altri non è una cosa che avrete che non è quello a cui serve la va bene quindi concludendo la questione è che chi giudica i giudicatori cioè ok va bene ci sono un sacco di gente che oggettivamente non capisce un cazzo ok qual è il metro di giudizio oggettivo per giudicare che la gente non capisce un cazzo e se si chi può farlo e chi giudicherà quelli che devono giudicare quelli che giudicano è un sistema che non funziona che non ha senso lasciate la gente il diritto di giudicare così voi avrete il diritto Marta tu avrai il diritto di dire a questa persona io non penso che la fotografia non sia giusta ti spiego secondo me perché e magari gli cambi idea lui fa ok forse non ci avevo capito un cazzo ed è bello di avere opinioni io se posso vorrei allora non puoi no non puoi perché no non puoi non lo so non lo so siamo allungati molto su questa opinione quindi grazie Gianni Giovanni il sondaggio è finito ma ho visto che è finito per 11 voti è finito per pochissimo sì quindi giudicare un film non è una cosa per tutti era facile il sondaggio comunque sì e no abbiamo un 49 e un 51% molto vicino quindi al 49% c'è il no con 536 voti al 51% c'è il sì con 547 voti leggermente in vantaggio la difesa però praticamente di niente di niente sì come vogliamo io lascerei vogliamo fare che lascio a te la decisione questa sera l'onore della decisione a questo punto solo a me e perché solo a me no vabbè allora prima prima te prima esprimi te poi dirò io allora ho evitato di esprimermi proprio perché era difficile secondo me in questo caso riuscire a dire qualcosa che non non facesse prendere l'ago della bilancia da una parte o dall'altra io ti posso dire che è vero che ci sono sicuramente degli aspetti che non tutti colgono a cui non tutti fanno caso la colonna sonora la fotografia eccetera un sacco un sacco di cose ma il punto è fondamentale che secondo me non si sta troppo considerando è che l'arte è un qualche cosa di cui si fruisce a più livelli e vi faccio un esempio pratico citando l'argomento della mia tesi di laurea i simpson io ho fatto un'analisi antropologica sui simpson in sostanza e proprio durante la tesi ho spiegato questa cosa ci sono tantissimi strati di comicità all'interno delle varie puntate dei simpson ci sono che ne so avete presente la puntata in cui i simpson li conosco perfettamente stiamo parlando della nonna serie quella in cui barth simpson diciamo diventa la mamma dei due piccoli uccellini e c'è omer che cade dalle scale perché barth gli ha staccato la luce quella scena è esilarante ed è esilarante a più livelli nel senso che la coglie chiunque a più livelli scusate volevo dire in realtà che può essere colta e capita a qualsiasi altro livello invece per esempio c'è un'altra gag bellissima del loro film che secondo me è una delle loro gag migliori della loro storia cioè quella in cui verso il primo terzo il primo atto praticamente la cupola sta offuscando piano piano la città e quelli che erano in chiesa vanno in bar e vanno al bar e quelli che erano in bar è geniale una delle gag più belle che abbiamo mai visto aspetta marco scusati sei bloccato mentre spiegavi la gag torna indietro e rieghilla no no ma quelli che andavano in chiesa al bar e quelli che andavano in chiesa sono finiti nel bar e quelli nel bar sono finiti in chiesa secondo me questa gag è geniale una delle gag più belle che abbiamo visto in tutto in tutto lo show un bambino magari non capisce cosa volevano comunicare in questa scena però i simpson sono apprezzati tanto dai bambini quanto dagli adulti questo testimonia che certo puoi avere anche solo non si sta parlando di criticità qua non sto parlando da critico nel senso sto parlando semplicemente di un prodotto che può essere fruito diciamo a vari livelli quindi non è una questione di critica al contrario invece ci sono un sacco di opere d'arte considerate tali da critici del settore che sono sicuramente dei capolavori ma che apprezzeranno in due nel mondo che non vuol dire che quindi facciano schifo però mi ritorna in mente giusto per rimanere nella stessa nella stessa citazione che abbiamo fatto per tutta la sera mattone polacco minimalista morto suicida giovanissimo coppie vendute due grande allora il punto è che dove voglio arrivare tutta questa discussione secondo me parte da un presupposto leggermente sbagliato perché la discussione nasce perché c'è chi si triggera quando qualcuno dice che i panettoni i cinepanettoni sono dei capolavori e Kubrick ti fa due palle così quella non è una questione di competenza è una questione che sei un saccente del cazzo e i saccenti del cazzo ce li hai sia come critico e ce li hai sia come come spettatore non particolarmente informato sull'argomento il fatto è che i critici non sono perfetti quindi esattamente come diceva se non sbaglio Gianni ricordo chi di voi l'ha detto dovrei sempre un critico più critico di te che sarà più autorizzato di te a dire quello che quello che devi o non devi guardare l'opinione sì è limitata ad una sfera soggettiva per le persone che non non possono essere considerate critiche e in realtà secondo me anche i critici hanno comunque una parte soggettiva che probabilmente non ammettono però un punto è che si parla sempre di gusti personali è vero ma tornando a monte di questo discorso non bisogna dimenticare la cosa più importante di tutte il cinema la musica l'arte quello che è è comunicazione secondo me un film un'opera d'arte quello che cazzo è è un fallimento nel momento in cui non comunica nulla a nessuno e che sia una canzone che sia un film eccetera eccetera avrà sempre senso di esistere fino a che ci sarà una sola persona che si esalta si emoziona si mette a piangere insomma fino a che c'è qualcuno a cui il messaggio che mandi arriva in sostanza e allora proprio per questo motivo con questo concludo arrivo alla spiegazione un pochino più musicale perché come dicevo prima stiamo parlando praticamente della stessa cosa nella musica quando io faccio un brano chiedo praticamente sempre il parere di chi non suona non di chi suona perché del parere tecnico non me ne faccio un cazzo di sapere che l'armonia la pulizia del suono eccetera eccetera non me ne frega niente me ne frega invece che la potenza comunicativa arrivi ovvero me ne frega che quello che non capisce niente mi dice oh bello grazie non dire altro oppure no questa roba non è esatto in certo modo le chitarre sono a te male non te lo saprà argomentare ma secondo me è molto più importante rispetto a quello che può dire un critico chiunque esso sia e quindi tutti possono dire la propria possono dire questo film è bello come diceva forse Gianni non me lo ricordo sì il critico può valorare la tesi o può anche può farti avere in sostanza un'opinione più arpia ti può dire guarda Christian De Sica grandissimo i suoi film fanno ridissimo però c'è anche qualcos'altro interrutti e scoregge puoi ridere anche di qualcos'altro però non puoi giudicare una persona e non un'opera non puoi giudicare una persona perché si diverte guardando il cinepanettone fantastico e quindi riassunto breve hai studiato grandissimo non sei l'unico che ha diritto di parola e beh è chiaro è chiaro diciamo che per riassumere tu sei con l'accusa diciamo tu sei dalla parte di Gianni e Mauro sostanzialmente non era alla difesa ok sì comunque sì il mio senso è chiunque può dire la propria eh appunto se non potrà essere nominato critico sì ma non ha un capitolo degli altri sei per l'accusa è bello che bello ma che bello che bello che mi piace quindi in pratica la mia opinione diventa superflua perché stiamo già state già due però voglio concludere con una cosa no no ah scusa scusa ho detto una cazzata perdona mi sono confuso no stiamo pari quindi invece no perché stiamo calmi stiamo calmi stiamo calmi no io voglio dire una cosa allora perché il discorso che fai te Mark che però diventa pericoloso nel senso che se poi tu ti ritrovi e non voglio fare una battuta tanto per farla ad ascoltare la tua canzone alla mamma di Marta tu rischi che se hai fatto no la voglio conoscere adesso cazzo se hai fatto qualcosa che non è nei canoni che non è facile che non è immediato rischi di beccarti un giudizio che non funziona negativo che però non è un giudizio non è un giudizio magari giusto nel senso che tu hai trovato una chiave interessante nuova per raccontare una roba e però quella persona in quel momento non ha gli strumenti per capirlo perché perché non è non ha gli strumenti non ha il bagaglio per capirlo e allora a quel punto tu era giusto che tu glielo chiedessi perché se poi tu con quel giudizio basi la tua opera cioè il tuo lavoro magari ci perdiamo un pezzo interessante quindi è un po' delicata questa cosa perché se poi il problema dove sta sta tutto nel bagaglio culturale quello che poi diventa negli anni piano piano si trasforma ed è la società quello che pensiamo come cresciamo quello che poi la comunicazione come ci fa crescere quello che ci viene fatto vedere quello che ci viene detto quello che ci viene raccontato se per tanti anni ci vengono raccontate determinate cose e se ne tralasciano altre poi non è che cioè tutto tende da quella parte allora magari tu hai fatto una roba degna di nota hai fatto qualcosa di interessante che aveva un punto di vista nuovo o diverso che però non incontra il favore dei molti e quindi ti diranno i tuoi amici che è un po' così però magari era una roba capito quindi io mi sento invece di dare il mio voto alla difesa quindi secondo me l'opinione pericolosa questa sera vince ragazzi e c'ha ragione la difesa e basta zero d'accordo zero d'accordo c'è qualcuno che prima però è stato bello ma prima ha scritto un commento che riassume non è importante quello che penso io non è importante grazie Giovanni però ci tengo a citarlo perché è molto molto interessante diceva l'oggettività in campo artistico in generale di bellezza è semplicemente la media della maggioranza della soggettività bene scusa ripeti mi sono distratto l'oggettività in campo artistico e di bellezza è semplicemente la media della maggioranza della soggettività quindi non esiste un'oggettività vera esiste un'oggettività maggioritaria guarda siccome io sento che di questo ne parleremo anche nella prossima opinione perché ci ritorneremo siccome siamo andati molto lunghi su questa andiamo avanti andiamo avanti grazie mille Marta perché ci hai dato la possibilità di affrontare questa discussione grazie Marta comunque credo che abbiamo fatto siamo stati tutti abbastanza bravi e mi avete fatto anche cambiare un pochettino idea no Marta questo non lo dico mi avete fatto vedere cose che io magari non vedevo no che cosa hai fatto bene che cambi idea ho deciso no ho deciso ho deciso così quindi tu adesso c'è stato uno scambio vai a litigare con tua madre vai a informare tua madre grazie Marta grazie Marta di essere stata qui con noi e a presto vostro onore vostro onore chiedo la pausa cesso di 30 secondi velocissimo un minuto metto metto proprio la pausa metto in pausa 30 secondi stanno tutti in pausa ragazzi velocissimo tutti a cesso vai 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 la pausa la pausa Sous-titrage ST' 501 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 non è che la trap è stata creata a tavolino la trap è nata tra un gruppo di giovani che voleva esprimersi in quella maniera, quando è iniziato a fare successo è iniziato ad avere successo tra i giovani qualcuno si è reso conto che poteva sintetizzare quello stile musicale e rivenderlo che però è quello che è successo per tutti gli anni quando tu dici che le top 100 sono uguali ma sono uguali pure gli anni 60 è sempre uguale c'è sempre lo stesso stile gli anni 60 penso proprio di no zio è sbagliato l'anno è sempre la stessa c'è sempre un gruppo musicale uno stile musicale che emerge nel mainstream che viene cercato di essere sintetizzato e rivenduto perché il discorso è sempre quello l'artista cerca di emergere tramite la propria arte invece il mondo commerciale cerca di riprodurre e rivendere con la propria arte un braccio di ferro continuo non è una cosa che ci siamo inventati adesso è una roba che va avanti così da secoli cioè lo stesso vale ma io vi faccio esempio con i film su cui sono molto più esperto ma perché ragazzi scusatemi quando c'era 2001 non era una stessa cosa a tutti i film di fantascienza non c'erano solo film di fantascienza in quel periodo e facevano tutti cacare ma poi ve lo ricordate robinson facciamo tutti cacare perché perché erano tutti i b-movie poi è arrivato 2001 ha spaccato tutto poi è arrivato Star Wars ma erano tutti i b-movie per quello che dici tu adesso ma all'epoca non lo erano no Giovanni no perché Kubrick ha elevato il genere di science fiction come i film Marvel hanno elevato il genere supereroristico che fino a Daredevil era un genere per bambini poi è arrivato Nolan ha fatto Batman e l'ha fatto diventare un genere per adulti dall'in poi ha iniziato a fare tutti i cinefumetti e adesso ci stanno solo i cinefumetti tra qualche anno se romperemo il cazzo di cinefumetti emergerà un nuovo genere genere cinematografiche ci attaccheremo a quello per i prossimi vent'anni è così che funziona e infine voglio rispondere a Gianni su questo voglio dirvi anche andatevi a cercare tutti quanti i film di fantascienza del cazzo che erano esattamente identici a Star Wars quando usciste Star Wars funziona sempre così nel mondo dell'arte commerciale che poi è quella l'arte che si vende poi se vogliamo andare a parlare dell'arte e sperimentare è un altro discorso chiudo dicendo la cosa su Gianni Gianni Ivan Zina hanno scoperto tanti anni fa quello che James Gunn ha messo in pratica l'anno scorso ovvero il fatto che c'è la legge dei 30 anni basta semplicemente andare in due di 30 anni per trovare il trend che sta di nuovo riemergendo tra i giovani che sono gli anni che sono stati gli anni 80 fino all'altro ieri è quello negli anni 90 Ivan Zina facevano anni 60 che è stata una serie che ha avuto tantissimo successo e lo sai perché? perché con la regola dei 30 anni quello che fai è semplicemente mettere ma perché i consumatori principali sono quelli che vanno da 25 da 25 esattamente chiudi Mauro per favore esatto e quindi quello che fai è che non fai altro che andare a infilarti nella nostalgia della nuova generazione che sta comprando per quello Guardia della Galassia usa le canzoni degli anni 80 non perché sono le migliori perché il 30 anni è cresciuto negli anni 80 e tutte le persone che sono cresciute negli anni 80 adesso stanno facendo i prodotti non voglio arrivare al 2050 grazie no neanche io in questo modo comunque è finita allora abbiamo finito i due giri adesso ci sono le aringhe finali una sarà ovviamente io manco manco io manchi tu scusa Gianni scusa hai ragione allora scusate una cosa la parentesi però vai Mark veloce velocissimo velocissimo avete parlato in qualche in qualche live vostra di Bruno Mattei perché ora che hai parlato dei cloni di Star Wars non posso non pensarci no no non avete mai parlato di Bruno Mattei ma davvero no no vabbè ragazzi vi prego dovete parlare di Terminator 2 italiano l'anno dopo che è uscito Terminator 1 ci sono stati tutto quel momento che abbiamo iniziato a copiare a fare le co zombie 2 quello che volevo dire aspetta Mauro quello che volevo dire allora la chat mi conosce sappi o meno che idea ho per la musica io vi voglio dire una cosa per esempio da Supreme cioè prima diciamo a Mauro a me piace tantissimo ma da Supreme se non sbaglio non è trap nel vero senso del tè cioè non rientra totalmente dentro la trap Mark mi sbaglio? no però non ti sbaglio assolutamente però questo discorso varrebbe per tantissimi altri artisti che questo però magari non è troppo reggaeton un po' più ok ok perché oltre a questo è come dire ragazzi liberato una figata liberato una figata atomica Mauro Zingarelli non è fantascienza e space opera e ritorna al futuro e thriller ok grazie allora va bene vai Gianni liberato una figata atomica assurda c'è Marco Cioni per esempio per esempio Marco Cioni nella trappo mi ha fatto scoprire 13 Pietro che se non l'avete mai sentito andatelo a sentire è il figlio di Gianni Morandi raga vi giuro è una figata pazzesca 13 Pietro è il figlio di Gianni ed è bravissimo vai Gianni tu adesso scusami se figlio di Gianni Morandi De Manone a me piace una figata assurda e io odio la trap tanto quanto Marco grazie Giovanni grazie allora se posso vado? vai prego ok allora innanzitutto mi voglio reggiare un attimo a quello che ha detto Mauro secondo me nì con Guardiani della Galassia nel senso James Gunn è sicuramente è sicuramente cresciuto in quell'età ma il prodotto cinematografico Guardiani della Galassia non si rivolge a quelli che sono nati e cresciuti in quell'età si rivolge in prima istanza ai ragazzi e i ragazzi hanno apprezzato quella musica e hanno dato hanno detto oh ma sai che c'è forse vado a risentirmi un po' di quella musica là ed è tutto qui questo che si gioca ragazzi provate a mettere nelle cuffie di un cavo negli anni 80 aspetta Mauro non tocca più a te dai provate a mettere nel telefono ormai di un ragazzo della musica di una volta vi parlo soprattutto di musica degli anni 80 di musica degli anni 70 di musica degli anni 60 e vedrete che tutti quanti diranno porca Eva porca Eva questa qui non l'avevo considerata come musica perché il fatto di delle top ten che ha citato pure Adriano è semplicemente una vera e propria esperienza che fanno le nuove generazioni che ascoltano musica commerciale come tutti gli anni però questo non significa che la musica di oggi non sia una merda cioè quello che voglio dirvi è che se andiamo ad ascoltare la musica di una volta io vi parlo per esempio di Thurse in Haven così la butto lì di Eric Clapton se ascoltate quella canzone raga ma non c'è bisogno di essere nati oggi di essere nati 30 anni fa o 40 o 50 o l'altro giorno per dire porca puttana questa canzone è un capolavoro cioè mi dispiace ma oggi io non riesco a dire wow questa canzone è veramente un capolavoro ti posso dire ok questa canzone è carina liberato lo ascolto anche io mi piace cini ma mergelli non ci parla grazie bella carina ascoltabile orecchiabile tutto quello che vuoi ma una volta c'era proprio io percepisco nella musica di una volta la sofferenza la passione l'ardore per comporre qualche cosa purtroppo ed è questo purtroppo è bello è una criticitazione che voglio sapere negli anni 90 no sì anche negli anni 90 che si rivela non ho capito stiamo parlando degli anni 90 voglio capire fino a che hanno tutti fermi guarda che il concetto è proprio che invece è un percorso è un piano inclinato praticamente io e se siano meglio di eminem per dirti fallo finire appunto dico no sto dicendo è che gli eminem sono sempre di meno quindi se è scritto sono peggio di betone sono sempre stati e beh quello che ascolta la gente e sì quello che è diventato di massa è sempre stato peggio per favore pure tu non dare adido a Mauro che c'era Mauro c'era Emine ma adesso c'è sfera e basta è peggio esatto io chiedo a Giovanni di non tenere conto di questa illazione no perché ti fa perdere il filo del discorso grazie va avanti e infatti l'ho perso esatto lo sapevo comunque c'è Kendrick Lamar non sfera e basta ma questo è un altro discorso io purtroppo ho perso il filo del discorso davvero vabbè quindi comunque vabbè quello che stavo cercando di dire è che semplicemente io percepisco nella musica di una volta della passione dell'ardore e penso che tutto il pubblico se la ascoltasse lo percepirebbe tutto qua ed è questo che differenzia la musica di una volta la musica di oggi che possiamo dire che non è costruita ma diciamoci la verità Mark tutti quanti se non sono costruiti dalle etichette si costruiscono loro alle spalle un personaggio cioè se lo costruiscono un po' a priori e anche Signorino forse non aveva un'etichetta ma se l'è costruito da solo il personaggio e questo per farvi capire che secondo me oggi come oggi la musica può essere accettabile può essere molto bella e può anche riuscire a far appassionare persone però rispetto alla musica di una volta si percepisce un'abissale differenza si percepisce la passione di un artista si percepisce la grandezza di dire oh cazzo questo è un capolavoro cioè io sto ascoltando una cosa che porca miseria oggi io sinceramente non ho mai avuto un'esperienza del genere finito grazie Gianni mi dispiace di aver interrotto il discorso che stavo facendo ma non ricordo esattamente quindi siamo molto lunghi Giovanni Gianni Gianni scusami se ho dimenticato se ho dimenticato di te siamo andati lunghi a ringhe finali ragazzi tre minuti intanto Giacomo per favore manda il sondaggio che dura cinque minuti quindi per la ringa finale avete due minuti e cinquanta a testa e trenta due minuti e trenta giusto scusa a testa dato che stiamo andando lunghi cerchiamo di essere precisi in questo modo aspettiamo che Giacomo manda il sondaggio e poi tocca a Marco no va bene iniziamo mica dobbiamo aspettare Marco lo vedo lo vedo un po' abbattuto a Marco dai non gli dare un limite di tempo fallo sfogare dai Marco aspetto il mio turno ragazzi è adesso tocca a te tocca a te adesso è il tempo che intanto Giacomo prepara il sondaggio ma tu comincia vai allora non sono per niente d'accordo con le ultime cose che sono state dette è semplicemente la mia opinione però prendendo in esempio mettiamo una canzone negli anni ottante in un lettore ad un giovane di oggi e dirà oh non l'avevo considerata oh Eric Clapton non è vero questo è un discorso oggettivamente falso cioè è oggettivamente falso ma perché è quel è Adriano aspetta dopo per favore è oggettivamente falso perché io posso rifare esattamente lo stesso identico discorso che veniva fatto a me quando ero negli anni 90 negli anni 90 io ascoltavo come praticamente tutti quanti ascoltavo Gigi D'Agostino prezioso molella e tutto tutta quella cricca lì che all'epoca erano la merda del periodo questa roba fa schifo perché perché è fatta con un computer perché è tutto eccetera eccetera e quando tutti i boomer dell'epoca mi dicevano eh guarda vedrai che adesso appena ti faccio sentire questa roba degli anni 60 che all'epoca erano gli anni 80 di oggi praticamente sono andato 20 anni indietro me la facevano ascoltare non faccio nomi mi faceva vomitare era roba vecchia era roba trapassata poi con gli anni cresci cominci a capire ah però soprattutto io sono un caso un po' strano perché essendo che faccio comunque anche il musicista di lavoro sono obbligato ad avere una visione un pochino più totale della musica perché mi serve perché mi aiuta fondamentalmente però adesso capisco ah questa roba degli anni 60 magari fatta in questo periodo qua hanno fatto ah beh dai alla fine ok però il discorso è lo stesso il discorso è quello che si faceva oggi come allora come la musica di oggi fa cagare quella di allora era meglio non è vero io perlomeno la penso completamente alla maniera opposta dobbiamo accettare che noi quello che noi repotiamo essere la cosa più figa del mondo non è universale nella grande probabilità è una cosa trapassata è finita è una cosa per i nostri tempi è una cosa che alcuni potranno apprezzare perché alcuni avranno l'orecchio di poter dire cazzo però la solo di Harry Clapton figo la chitarra sta sparendo la chitarra è usata solo per fare e questa non è una cosa negativa Adriano aspetta fai un'involuzione è un'involuzione Adriano Adriano per favore dai è una cosa che repotiamo involuzione quando hai finito Mark se hai finito faccio parlare ad Adriano se no ancora c'hai qualche secondo sì 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 alla fine tanto il mio concetto anche se lo riassumo con qualche parola in più ormai l'avete capito posso solo perché sostanzialmente quello che dici tu è che quello che adesso a molte persone fa cagare ma ci piace la roba più vecchia nella prossima generazione sarà la roba fica perché ci sarà una roba nuova che farà cagare alla generazione di adesso quello è il suo sì questo mi ero dimenticato di dirlo è vero anche questo volevo giusto dire da quello che tu hai detto io ho intuito questa roba qua la trap la trap di allora ok abbiamo capito ragazzi mi ricordo che sulla chat in alto c'è il sondaggio sì e no andate a votare la musica di oggi fa cagare sì o no cliccate sul sì o sul no cliccate su vota vai adriano gianni tu hai una ringa perché voglio solo dire una cosa sennò poi ti lascio la parola voglio dire questa come fai proprio te che poi suoni a dire che secondo non è oggettivo il fatto che sia un'involuzione il fatto che poi si perda la possibilità di suonare in un certo modo quindi utilizzare uno strumento in un certo modo in una composizione musicale a me sembra un'involuzione non mi sembra un pro non ci vedo a mauro te prego ma che c'è per dire esattamente questa roba qua ma che stai dicendo ma no ma che significa è l'evoluzione torniamo alla linea mauro ti prego ma no ma esatto ma a un certo punto però si continua a suonare la chitarra se poi si smette di suonare la chitarra perché non serve più è quello all'involuzione no se poi ho sei corde ne suono due ho 14 tasti e ne uso quattro è un'involuzione non è un'evoluzione è qui che ti sbagli perché soprattutto anzi da questo punto di vista sei quasi involontariamente avvalorando la mia tesi in un certo senso perché all'epoca si era tipo negli anni 60 si era veramente smesso di utilizzare il clavicembalo si era veramente smesso di utilizzare il liuto il liuto per esempio in favore della chitarra il pianoforte in favore del clavicembalo oggi potenzialmente possiamo trovare determinati brani che invece hanno per esempio un sitar cosa che negli anni 60 non dico che non c'era ma era praticamente sconosciuta trovi qualcosa se non sbaglio in surgeon pepper dei beatles trovi proprio un brano ora non mi ricordo come si chiama che è strassaturo di sitar ti faccio un esempio però oggi come oggi ok tecnicamente magari smetti di utilizzare l'oggetto liuto ok te ne do atto lo usi tramite una tastiera tramite un vst comunque il suono però in questo modo quando tu stai abituando stai dando alla gente più possibilità di allora perché tramite vst anche nella trap per dire potresti utilizzare dei suoni tipo il glockenspiel che prima non si usava in una maniera così insomma quasi se ne abusa anzi in un certo senso e in moltissimi base trap puoi trovare non solo delle chitarre ma trovi anche porca racca non mi ricordo il nome vai Mark però chiudi ti prego dello strumento dello strumento greco diciamo sostitutivo della chitarra comunque sostanzialmente quello che dice è che quindi non sei disabituato all'orecchio quello che dice è che con la sperimentazione musicale di adesso si stanno riutilizzando degli strumenti vecchi o comunque dei suoni che fanno parte degli strumenti vecchi Gianni pochissimo velocissimo ho visto che il sondaggio è finito quindi proprio rapidissimo rapidissimo secondo me il punto della situazione per concludere è racchiuso nelle ultime parole che ha detto Mark cioè sul fatto che lui ha detto che inizialmente sentiva la musica di Gigi D'Agostino e tutte questa cosa qua quando ha iniziato a suonare ha detto ah forse qualcosa del passato ed è questo secondo me il vero e proprio punto cioè oggi secondo me c'è veramente poco da poter dire wow però la musica di oggi sicuramente ha portato delle evoluzioni involuzioni chiamatele come volete alla fine la trap è un po' un'evoluzione del rap il rap ha un po' stravolto per certi versi come è stato un po' anche per il jazz e poi successivamente per il blues in America però c'è da dire una cosa una persona che ascolta suona un minimo gli strumenti ma comunque una persona che abbia un minimo di cultura musicale quindi che abbia semplicemente ascoltato più brani si può facilmente rendere conto che oggi fanno anche della musica caruccia rispetto a quella di una volta che secondo me è proprio tutt'altra storia è proprio tutt'altra storia e c'è poco da fare perché è proprio oggettivamente così erano strumentisti erano musicisti che riuscivano a creare oggi una cosa che mi dà molto fastidio a me sono le persone che sono i famosi interpreti ok cioè a me la cosa che piace di un artista è che si scrive ed è anche per questo ti ammiro tantissimo scrivi suoni fai tutto tu oggi si trovano sempre meno musicisti cantautori chiamiamoli così e sempre più interpreti e questo significa che effettivamente ci sono sempre molte meno persone che riescono a carpire quella grandezza musicale che magari una volta non so perché chiamiamola anche epoca d'oro della musica si carpiva meglio grazie grazie Gianni allora il sondaggio è finito i ragazzi hanno finito è difficile stasera mo capito Adriano perché non hai voluto fare il giudice perché mo come cazzo me ne esco da sta storia quindi il sondaggio me lo leggo da solo la musica di oggi fa cagare è l'opinione Mark Dehammer porta l'opinione che secondo lui la musica di oggi non fa cagare il sondaggio era col punto interrogativo ovviamente ed è c'è una grande disparità perché siamo un 76 contro un 24% 76% sono in 509 al 24% sono in 160 sempre pochi rispetto al numero di persone però sostanzialmente per la chat dice che la musica di oggi non fa cagare quindi adesso toccherebbe a me dirla bravo Adriano complimenti grande colpo da maestro uscirti questa sera sono cazzi miei proprio a te no sai perché io amo la musica molte volte abbiamo fatto tempo fa un'opinione pericolosa dove si parlava di colonna sonora e fotografia io sono stato uno dei primi a dire che molte volte la colonna sonora mi colpisce molto di più della fotografia o di qualsiasi altro elemento per quanto riguarda la produzione cinematografica amo la musica in maniera assurda e sono d'accordo sia con Adriano che con Gianni nel dire che la musica negli ultimi anni sta subendo quella che per le mie orecchie da quarantenne è un'involuzione d'altra parte d'altra parte non mi piace pensare che in quello che invece si sta cercando di fare ed è visibile in tutta una serie di gruppi eccetera cioè della sperimentazione sperimentazione pesante come poco fa accennava a Mark si sentono un sacco di suoni particolari provenire magari da strumenti che normalmente non si usano più la tecnologia ci aiuta non uso più chissà che cazzo di strumento incredibile a livello fisico ma lo uso dal computer lo dico dal computer tanto per farla più veloce quindi quello è molto figo ci sono un sacco di robe adesso che si sentono di musica elettronica di musica particolare eccetera che mi piace la cosa che mi è dispiaciuta questa sera è che avete parlato troppo di trap ma proprio troppo e sembrava che la musica di oggi è solo trap io sono felicissimo di dire che la musica di oggi fortunatamente non è solo trap non è solo trap e purtroppo nonostante io vada totalmente in si dice brodo di giuggiole nell'ascoltare roba più vecchia perché raga perché il mio orecchio è quello perché molto probabilmente Mauro c'ha ragione io a 30 anni ho sviluppato un gusto e magari si è fermato lì non lo so però se io sento l'album di Billie Eilish vado fuori di testa non sono un esperto di musica ascolto quello che mi piace non voglio pensare che la musica di oggi è solo trap perché se è solo trap stiamo messi veramente male e per il resto che a me piace ascoltare della musica di oggi quale diverse robe di rap anche il rap italiano c'è un nuovo cantautorato nella musica italiana chi sta cominciando a fare delle robe interessanti e dato che sono tremendamente d'accordo con il discorso di Mark cioè che la musica che stiamo ascoltando adesso gente della mia età dice che fa schifo ma la musica che a me piaceva e ragazzi adesso fa schifo e questo succederà nelle generazioni future concludo dicendo che purtroppo non tutta la musica di oggi fa cagare e siccome un solo una sola mosca bianca cioè la trap che fa veramente schifo al cazzo non è tutta la musica di oggi Adriano purtroppo devo dire che la musica di oggi non fa cagare perché non tutta la musica di oggi fa cagare scusami Giovanni non voglio essere polemico ma tu l'ascolti Post Malone per esempio sì non tutto l'album però Post Malone l'ascolta a me i Twenty One Pilots a me i Twenty One Pilots piacciono piacciono tantissimo ho capito ho citato anche Tachipirina ho capito sì però ce n'è uno Post Malone che tra li esplori si esploro quindi hai fatto vincere la ricetta gli XX gli XX che sono i contemporanei gli XX a me mi fanno scia fuori di testa mi piacciono un sacco gli XX e sono contemporanei e non è trap è altra roba c'è un sacco di altra roba di musica sempre più elettronica perché io vado più da quella parte che a me piace tantissimo ed è musica contemporanea se posso io volevo dire che Mark ha anticipato la canzone Paracetamolo di Calcutta può essere ma lascia stare che metto questa piccola parentesi perché io ci ho fatto proprio un video sopra non al video di Mark allora aspetta ti fermo un secondo perché chiudiamo la puntata opinioni pericolose lì qui quindi abbiamo deciso che la musica di oggi non fa cagare mi spiace Adriano Santucci so che me lo farai pagare per tutta la vita adesso ne parliamo dopo ne parliamo adesso andiamo nel posto opinioni pericolose vi diamo 40 secondi ma tipo 40 proprio per andare a pisciare e rientriamo subito dai e rientriamo subito Grazie.